Musica Proseguono gli appuntamenti dalla settimana Santa Gela, oggi fino alle 20.30 le porte della Chiesa del Rosario saranno aperte fedeli per la tradizionale lavanda dei piedi. Alle 21 processione dalla Chiesa del Rosario tra le vie del centro storico e rientro delle figi della Signore e della Madonna in Chiesa Madre, dove alle 23 si terrà l'adorazione eucaristica comunitaria. Musica Mostra fotografica e di paramenti sacri e la passione di Cristo nei locali di Palazzo Ducale a Gela si svolge fino al 6 aprile dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. L'iniziativa è promossa da Franco Cerniglia, Rocco Morello e Franco Pardo. Uguali e differenti, una riflessione sulla migrazione di ieri e di oggi. Si tratta del musical Camicette Bianche, scritto e diretto da Marco Salatteri, appuntamento al Teatro Comunale Eschilo di Gela, il prossimo giovedì 5 aprile alle 18.00. L'ingresso è gratuito. L'iniziativa porta la firma dell'Associazione Gela Famiglia, della Casa del Volontariato, del Comune e del CESVOP. Martedì 10 aprile alle 10.00 nei locali del Museo Archeologico Regionale di Gela verranno presentati reperti subacquei recuperati dalla sovrintendenza del mare nel corso delle campagne di indagine svolte negli ultimi anni in collaborazione con la Guardia di Finanza di Palermo, la capiteria di Porto di Gela ed il subacqueo gelese Francesco Cassarino. Tra gli altri verranno esposti i due elmi corinzi provenienti dai fondali di Contra da Bulala. Si tratta di due oggetti molto simili tra di loro, inquadrabili nella tipologia dell'elmo diffuso in Grecia tra il 650 ed il 450 a.C. La mostra sarà inaugurata dalla sovrintendente del mare Sebastiano Tusa e dal direttore del Museo di Gela, Ennio Turco. Il restauro di alcuni dei reperti esposti è stato effettuato grazie al supporto del club per l'UNESCO di Gela. Si darà sabato 5 maggio alle 17.15 e alle 21.15 al Teatro Comunale Eschilo di Gela il musical La Bella e la Bestia per la regia di Antonello Capodici. Per informazioni contattare lo 0933 91 1892 345 5880 580. Resital del chitarrista Elio Lombardo domenica 8 aprile alle 19.00 nei locali del Palazzo Principessa Pignatelli Roviano di Gela nell'ambito dell'84esima stagione concertistica promossa dall'associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra con il patrocinio dell'assessorato regionale al turismo, sport e spettacolo e del Comune di Gela. Grazie.